Ciao a tutti dal vostro Gianni amico Juventino Oggi parleremo di Keshiro come abbiamo fatto nelle altre quattro raccolte Oggi racconteremo la quinta storia di Kenny il guerriero Il quinto racconto di Kenny il guerriero Abbiamo lasciato l'uomo di Kenny il guerriero Scusate i miei messaggi Abbiamo lasciato Keshiro contro Che aveva abbattuto Come si chiama E aveva abbattuto Aniba E che si era fatto sostituire A Keshiro a Toki Non si sta Aniba Poi si scopre che è stato Un sovrano del sacro imperatore di Okuto Del re di Okuto Infatti il sacro re di Okuto Aveva imposto ad Aniba Di attaccare il villaggio dei miracoli Dove lo stesso Toki Il vero Toki aveva ricostruito il villaggio di miracoli Allora lo stesso Aniba Aveva preso il posto di Toki E si era fatto chiamare Toki Per sostituirlo lui Perché Aniba infatti era un pochissimo conoscitore Della scuola di Okuto E un giorno si trovava a passeggiare nel villaggio Dove il vero Toki L'aveva fatto ritornare in vita quel villaggio E che quel villaggio era stato preso da peste E da malattie E il vero Toki stava curando tutti Non che un giorno passo da lì Aniba E voleva correre un vecchietto E le gambe Però ha toccato un punto segreto Facendo così però Sbagliando i punti segreti Ha rischiato veramente fortemente Di fargli vedere L'utilizzo delle gambe E qui Toki se ne accorge Muore Gli è dato uno schiaffone E l'ha rimproverata Aniba Di non utilizzare più l'ocuto Visto che non era capace di farlo Tutto qui poi Aniba Si mette sotto la guida del regno Kudo Catturano Toki Lo portano nelle prigioni di Cassandra E qui racconteremo il quinto capitolo Della storia di Ken Ken viene Intanto Ken ritorna nel villaggio di Mamia Però non la trova Infatti Mamia Decide Da sola di Partire Per villaggio per villaggio Per trovare Il famoso Toki L'originale Il vero Toki E vai in un villaggio Dove c'è una strana vecchietta Diciamo Una sensitiva Che gli leggi il futuro Comunque Mamia gli dice Che non interessa leggere il futuro Ma Ben sì di Vuol sapere Dove si dia Dove il vero Toki E la vecchia gli dice Vabbè Questo lo posso fare Ben che È l'ultimo Cosa che posso fare Oggi morirò Comunque parlando parlando La vecchietta gli dice Che Toki È prigioniero Nella terribile Prigione di Cassandra E qui La prigione di Cassandra Era una prigione Fatta costruire Dal re di Okuto Per catturare Tutti i più grandi Guerrieri Del mondo E portali in questa prigione Poi il re di Okuto Prendeva da questi maestri Le loro tecniche E così facendo Il re di Okuto Imparava Le tecniche Di ogni maestro E le faceva rapire E li portava in Cassandra Qui a Cassandra Vive la legge Il più forte I più deboli Devono morire E più forti Restano a Cassandra Infatti Si sentono Se si passa a Cassandra Si sentono Come specie Dei gridi Dei demoni Invece Non sono Dei demoni Ma sono Le grite Dei prigionieri Inchiusi Nelle terribili Fredde Di Cassandra C'è lei Di Cassandra La vecchia Dice così Mentre arrivano I soldati Della prigione Di Cassandra Ammazzano la vecchia Inseguono Mamia Mentre la stanno Quasi per uccidere Arrivano per salvarla Che ne toghi Sbarazzando Dei soldati E lasciando Attaccando Il capo Di questi soldati Lo immobilizza Che Shiro Con un punto Dei persone Alle tempi Che lo immobilizza Gli dice Io non ti faccio Morire Ma ora vai Da tuo capo Gli dice Che io Lo sto Sto cercando Il colonnello Gli dice Non ti consiglio Affrontare Il mio capo Perché è Umanamente Impossibile E così Facendo Il capitano Si affloscia Per terra E spiene Ken scopre Che Toghi Viene Inchiuso Nella terribile Prigione Di Cassandra Chi ha detto Mamma mia E Idre Si pressiona Ad andare a Cassandra In quell'istante Il capitano Che era stato Toccato In un punto Secreto Si rialza E va subito Dal A Cassandra Per parlare Con il capo Di Diciamo Poi Non è neanche Il capo Ma il guardiano Di Cassandra Il guardiano Di Cassandra Si chiama Wiggle E' un uomo Un uomone Gigantesco Molto anziano Che padroneggia Le Fusse Taizan Infatti Lui può Attaccare E può bloccare Con le Fusse Taizan Mentre Il capitano Va correndo Da Wiggle Chiamando Signor Wiggle Signor Wiggle Che Shiro Sta arrivando Vede Diciamo La sua La sua stanza Il suo trono Pieno Di soldati morti Infatti Wiggle Aveva Ammazzato Tutti I soldati Che erano scappati Di fronte A Keshiro E a Rei La stessa cosa Fa con Il capitano Che Wiggle Si rialza E lo fa A fettine Con le Fusse Taizan E qui Wiggle Lancia La sua spita A Ken A Rei E a Mamia Così I tre Si dirigeno Si dirigeno Questa Terribilissima Prigione I problemi Ci sono Da per tutto Infatti Più si avvicinano A Cassandra Più vengono Attaccati Dai soldati Arrivando Quasi Come mai Alle porte Di Cassandra Prima Viene Attacca Wiggle Diciamo Che molto Era molto Non solo Forte Ma era Anche molto Furbo Fulbo Parla Con il suo Braccio Desto Tiger Che usa Tiger Usa Il corpo Della Spalla Micidiale E gli dice Wiggle Di andare Nella cella E prendere Il capo Stipio Della Montagna Rossa Che sarebbe Una Tonna Perché Keshiro Come tutti Sappiamo Non sarebbe Mai Capace Di Ammazzare Una Tonna Infatti Tiger Fa così Va Nella cella Prende Bella Che sotto Il rigatto Che gli ammazzano La mamma Infatti Bella Non vuole combattere Con Keshiro Perché non ha nulla Contro Keshiro Ma Wiggle La rigatta Gli dice Se non Uccide Ken Ammazzano La madre Bella Si restata Affrontare Keshiro Che Keshiro In questo Tempo Si trova Vicino A delle montagne Che stavano Curando Una vecchia Un vecchio Una ragazzina Che avevano Da sede Qui Bella Attacca Keshiro Ma Keshiro Neanche la tocca Non gli fa niente Infatti È questo Che poi Bella Guarda Keshiro Negli occhi E capisce Che Keshiro È ovviamente Una buona persona Un nonno Lo lascia andare Qui Tiger Quel bastardone Di Tiger Vede tutto Che Bella Si era resa E uccide La madre di Bella Sotto i suoi occhi Qui Bella Attacca Tiger Ma Tiger È molto forte E superiore E uccide facilmente Bella Sotto gli occhi Di Keshiro E qui Keshiro Gli sale Una rabbia Pazzesca Infatti I due Si affronteranno È facile Che Keshiro Batte Tiger Il bacio destro Di Wigol La notizia Arriva a Cassandra E qua Wigol Si sta Un po' Spaventato Incazzando Fa tipo Un atto Soldato Gli dice Signor Wigol Signor Wigol È successo Un atto Fatto Togi Ha cominciato A sorridere E qua Wigol Un po' Si spaventa Perché Togi Non rideva Da moltissimi anni La puntata Si 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 Che Keshiro Finalmente Arriva Alle porte Di Cassandra Qui c'è Un'altra legge Che nessuno Mai Fin da allora Non era nessuno Nessuno mai Era passato Da quelle porte Infatti Quella porta Non la passava Nessuno Perché erano Custodite Da due Grandissimi Colossi Laga E Fuga Due fratelli Gemelli Che usavano Il raggio Luminoso Degli Tè Questa mossa E' una mossa terribile Che viene Una mossa Combinata in due Che la fanno Correndo Destra e sinistra Si mette Uno destro Lato a sinistra E fanno una specie Di raggi E chi passa nel mezzo Viene tagliato a fette Prima ci vuole Passare Ray Ma viene un po' Tagliato in faccia E poi ci riprova Keshiro Che neutralizza Con i cento ogni La mossa Dei due fratelli Però Che non li uccide Perché capisce Che Laika E Fuga Non erano cattivi Ma erano solo Ricattati Infatti Wiggle Anche qui Wiggle Quel bastardone Ricatta Laika E Fuga Di uccidere Il fratello Mitsu E Wiggle Vedendo che Laika e Fuga Si sono resi Fa ammazzare Mitsu Davanti agli occhi Di tutti Qui Keshiro Si arrabbia Come al solito Laika e Fuga Si schierano Nettamente Con Keshiro Wiggle Manda tutto il suo esercito Che viene facilmente distrutto Da Laika Fuga Da Rei Ma Mia Keshiro Alla fine Laika e Fuga Decidono Di aprire la porta Mai nessuno Ricordo ancora Mai nessuno Era entrato Da quelle Porte Infatti Entrano E tutti i soldati Rimangono a poca aperta Che Ripeto Nessuno mai Era riuscito A entrare a Cassandra E qui finalmente Wiggle Decide di scendere Personalmente in campo Wiggle Ripeto È un grandissimo personaggio Molto forte Infatti Come ho detto prima Le fruste Daizan Inizia lo scontro Prima Wiggle Decide di affrontare Keshiro Con due fruste Infatti Per primo Per un pochettino Alla peggio Keshiro Ma poi Ken Gli lega Le due fruste Così velocemente Che nessuno Se n'era cotto Qui Keshiro Penza di averla meglio Di battere facilmente Wiggle Ma all'improvviso Wiggle Dal suo casco Esce fuori Mille fruste Le mille fruste Daizan Infatti Blocca Ken Shiro Con le mille fruste Daizan Lo blocca Così non può muoversi E poi Si gonfia Forte Si gonfia Il braccio Infatti Si trasforma Il braccio Come un Che cato Si confere molto In braccio E lo vuole coprire Come un capricorno Con una testata Di capricorno Infatti La sua mossa Si chiama Sago Coppomongolo Lo vuole coprire Infatti Lo coppisce E qua Keshiro Si vede Che si spaventa Dalla mossa finale Di Wiggle Wiggle Lo coppisce Con Tutta quella potenza Con il braccio Ives A 50 kg Fa volare Keshiro Sopra le tombe Che sovra Sono Cassandra E Ken Sbiene Infatti Keshiro Sbiene di brutto Sbiene molto Si pensava Che Ken Sia morto Infatti Wiggle Era troppo Orgoglioso Troppo Che aveva vinto Infatti Avevano fatto Una scommessa Se Ken Vinceva Liberavano tutti Mese Se Ken Verdeva Wiggle Aveva La cosa Di uccidere Tutti I I I I I Tutti Stomano di caldo Se Ken Se Wiggle Vinceva Ammazzava Diciamo I Prigioni Di Cassandra Infatti Fa così E stacca Si stacca Cinque peli Dalla barba E fa Prendere I prigioni Della Cella numero Cinque E tutto Quest'anni Ken Svenuto I prigioni Stanno quasi Per morire E non si sa Se moriranno Questa La racconteremo Nella Sesta Storia Dell'Uomo Dalle Sette Stelle Il nostro Eroe Uomo Dalle Sette Stelle Racconteremo Il sesto Capitolo Mi sta piacendo Fino A ora Non so Un po' Raccontata male Ma oggi C'è veramente Un caldo da morire Qua a Messina Si muore Speriamo che questo video Vi sia piaciuto Iscrivetevi in tanti E fatemi sapere Se il video vi è piaciuto Anche se vedo Che non vi sta piacendo Più molto Cosa le racconto male Le storie Non so Non lo so Spero Iscrivetevi in tanti Ciao Un bacio a tutti Alla prossima Forza Juve Madonna del caldo